In questo anno non sono stati, quindi fortunatamente vedermi soddisfatti vedermi felici sorridenti comunque ci ripaga di tante cose. Grazie. Passiamo adesso alla distribuzione degli attestati. Magari accanto alla distribuzione degli attestati abbiamo anche una copia nel giornale. Ovviamente se avete bisogno anche di qualche altra copia potete tranquillamente fare, va bene? Allora, bell'antuomo, certo. Sì, magari man mano che ripirate gli attestati, rimane anche. Francesco Mauro Pepe. Grazie. 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 Grazie.